Siamo i bellissimi d'Italia, mille sogni dentro noi, siamo i bellissimi d'Italia, puoi cantare insieme a noi, siamo i bellissimi d'Italia. E poi qui chi abbiamo? Enzo Passaro. E quanti anni hai? Quanta nove. Cinquantanove da dove? Cinquantanove da dove sei? Di Roma. Di Roma. E che ci fai qui? Sono il bagnino del villaggio. E lo sapevo, mitico bagnino del villaggio, ecco perché tutti ti acclamano, ma vuoi fare qualche altra cosa? Non so, vuoi fare l'attore? No, no, non... Allora, ringrazio la famiglia Massigaro che mi hanno fatto partecipare, è la tutoressa Agostanza Sciuola, quindi... Nel senso che loro hanno detto, dai partecipa perché insomma sei bello. No, non so bello, sono affascinante. E tua moglie nel pubblico? Ma ciao, però sì, ma... Ma bello sei quattro anni. Fate finta di negare domani mattina perché c'è lui che viene a salvare. Grazie, grazie, grazie amici. Siamo i bellissimi d'Italia, con mille sogni dentro noi. Siamo i bellissimi d'Italia, puoi cantare insieme a noi. Siamo i bellissimi d'Italia, forse non saremo eroi. Ma siamo un mondo di colori, non ci arrenderemo mai. Il treno va fuori città, dove c'è un desiderio. Io sono qua, sogno a metà, domani poi chissà. Siamo i bellissimi d'Italia, con mille sogni dentro noi. Siamo i bellissimi d'Italia, puoi cantare insieme a noi. Siamo i bellissimi d'Italia, forse non saremo eroi. Ma siamo un mondo di colori, non ci arrenderemo mai. Il treno va fuori città, dove c'è un desiderio. Io sono qua, sogno a metà, domani poi chissà. Questa è la verità, niente ci fermerà. Voia di libertà, e di normalità. Siamo i bellissimi d'Italia, con mille sogni dentro noi. Siamo i bellissimi d'Italia, puoi cantare insieme a noi. Siamo i bellissimi d'Italia, forse non saremo eroi. Ma siamo un mondo di colori, non ci arrenderemo mai. Il treno va fuori città, dove c'è un desiderio. Io sono qua, sogno a metà, domani poi chissà. Questa è la verità, niente ci fermerà. Voia di libertà, e di normalità. Siamo i bellissimi d'Italia, con mille sogni dentro noi. Siamo i bellissimi d'Italia, puoi cantare insieme a noi. Eccole qua, sezione Lady Junior dai 31 ai 40 anni. La sezione Lady dai 41 ai 50. E la sezione Over dai 51 anni in poi. Sono state già presentate ieri sera, quindi le avete conosciute una per una. ma questa carrellata con abiti così eleganti, così belli, meritavano veramente di essere presentati questa sera con il vostro più grande applauso. Antonio, sei un po' emozionato? Eh sì, tanto, perché i primi ad essere premiati è la nuova categoria di quest'anno, i Mister Over. Quindi, i maschietti, i maschietti, allora facciamo un passo avanti, venite pure, tanto tre siete, quindi mettetevi qui al centro. Io sapete, farei un applausometro per decretare il vincitore, ma non si può, non si può perché abbiamo votato, quindi la giuria così ha deciso. Siamo un po' davanti a questa scelta che spirciano, Paola. Abbiamo la categoria Over per il Bellissimo d'Italia 2021, una fascia dedicata al carisma, quindi non solo la bellezza, ma carisma, fascino e simpatia. Infatti la prima fascia è la fascia simpatia e viene premiata da Jessica Boffa, direttrice artistica Suet Eretti, che è già in posizione. È già in posizione, ecco qua, signora Boffa, bellissima, è bella donna, è sposata. No, non è libera, ecco qui, è libera, bellissima veramente. Allora il Mister Simpatia per il Bellissimo d'Italia Over 2021 è il numero, insieme, 42, Vincenzo Passaro. Braccino sinistro, bravo, amanti e foto, prego signora, vabbè, passerella, passerella per Vincenzo Passaro. Il Bellissimo d'Italia 2021, sezione Over, fascia, fascino e simpatia. Si dice che un uomo per colpire deve far ridere una donna, deve essere simpatico e lui sicuramente ci riesce alla grande. Il Bellissimo cover d'Italia 2021 sarà premiato niente di meno che da Lisa Fusco, mentre il secondo posto sarà il Mister Over Campania 2021. Quindi sono in effetti quasi due premi posti, perché abbiamo il Mister Over Campania 2021 ed il Mister Over d'Italia 2021. Vediamo un po' la nostra giuria come ha votato e leggiamo ovviamente il Bellissimo Mister Over d'Italia e automaticamente l'altro sarà quello della sezione Campania. Il Bellissimo Over d'Italia, voglio di nuovo specificare chi premia, per quanto riguarda il Mister Over Campania, premerà la dottoressa Costanza Scevola, rappresentante del Comune Pisciotta, mentre per quanto riguarda il Bellissimo Over d'Italia, premerà Lisa Fusco. Quindi sarà prima Lisa Fusco a premiare, ok? Vieni Lisa, avvicinati. Aspetta, aspetta, ancora non sappiamo chi è. Non pensavo che stessi già protesa e magari avessi sbirciato su qualche schermo. Quindi Paola, il Bellissimo Over d'Italia 2021 è il numero... 40! Fortunato Esposito! Faccio, diritto! Siamo tutti vaccinati e tamponati. Braccio sinistro, braccio sinistro. Abbassati. Bravissimo, ecco qui. Poi la passerella con la nostra Lisa Fusco. Vieni, vieni, fortunato, non correre. Con la nostra Lisa Fusco, passerella, dai! Sì, automaticamente il mister Campania, bellissimo Over per i Bellissimi d'Italia 2021 è il numero... 41! Raffaele Cristofaro! Grazie alla dottoressa Costanza Scegola, rappresentante del Comune di Pisciotta. Passerella per il mister. Buona, la dottoressa Scegola. E con voi abbiamo inaugurato questa nuova sezione dedicata ai maschietti, che piano piano crescerà. Sapete che qualche anno fa è stata proprio la GD Agency pensare di coinvolgere le Lady e le Over. E adesso tanti concorsi ci hanno copiato, siamo partiti con pochissime donne e invece piano piano il gruppo si è arricchito. Tante persone, tante donne hanno chiuso il, come si dice, coraggio, anche perché sono talmente belle. Ma voi ve le ricordate le nonne di una volta? Eh, guardando adesso le nostre Lady e le Over, devo dire, sembrano proprio delle ragazze di 20 anni. Complimenti a tutte, bellissime. Applauso per il mister, grazie. La posizione ancora, tanti auguri e complimenti al bellissimo Over d'Italia, ovvero fortunato.